Prezzi dei carburanti ancora a rialzo. Ha cominciato Agip martedì scorso, dando il là a tutte le altre compagnie. Gli aumenti sulla benzina vanno da 0,7 a 1 centesimo, portando il prezzo a un passo da 1,4 euro al litro. Per il diesel, invece, gli aumenti oscillano tra 0,6 e 1,5 centesimi, con conseguente prezzo intorno a 1,25 euro al litro. Grazie